Ciao amici, come d'indicazione 8.30 a Ciampino Busta intatta Vai Leggiana e Maccarese E non ci sono mai stato Porto e Lisbona Porto e Lisbona Ci sono anche i biglietti, è vero? Le mappe Che carina la guida Finalmente sappiamo che non è Civitavecchia e Sant'Amarinella Porto e Torquinia E non è Torquinia Ciao